Credo che ci sia una grande differenza tra fare le primarie del Partito Democratico e fare le primarie di una coalizione che si candida a governare questa regione. C'è una grande differenza. Dubito e ho sempre poco creduto nei processi di autosufficienza, quindi è una discussione ovviamente interna ai partiti quella. Molti partiti sono rappresentati dentro questo progetto politico, dentro questo laboratorio politico. Vorrei ricordare che dentro questo laboratorio politico c'è un pezzo significativo di Partito Democratico. E questo bisogna sottolineare. Non è che stanno da un'altra parte, sono qua dentro. Sono quella parte che da subito, a differenza di altre parti... Mi pare che anche lo stesso Alberto Villa sia venuto a porre più di un orecchio nel consenso di questo dibattito. Alberto Villa è uno dei tre finora ufficiali candidati delle primarie per il Partito Democratico. Ma guardi, posso dire che così non è uno scoop, ma io credo che oggi i tre candidati del PD saranno in piazza ad ascoltarci. E credo che sia una vittoria politica per noi. Verranno a casa vostra, a casa di tutti. E' una piazza, però certamente verranno ad ascoltare. E' una piazza pubblica, in nome tra l'altro di una persona a cui noi vogliamo ancora molto bene, che è Don Andrea Gallo, che non è stata scelta casualmente, perché tra l'altro Don Andrea Gallo e la comunità di San Benedetto ancora oggi sono un motore di inclusione sociale e politica in questa città. E quindi noi un risultato l'abbiamo già ottenuto, che i nostri contenuti entrino dentro quella discussione. Vengono a casa vostra. Arriveranno in tre e se ne andranno in quattro? Partirà un altro da quella piazza di nome? Non credo. No, no, no. Non è oggi nelle nostre corde. Grazie. 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 Grazie.